E' interessantissimo ascoltare quanti risultati, quanti traguardi avete raggiunto e quante battaglie ancora state conducendo, quindi complimenti perché appunto viste da fuori e sentite in fila fanno veramente impressione, magari uno poi si abitua e gli sembra normale, ma ovviamente non è normale raggiungere questi traguardi per cui bisogna anche appunto riconoscere i meriti e coltivare quell'autostima che aiuta a portare avanti ulteriori battaglie. Io una presentazione chiaramente gli stimoli farebbero venire voglia di trattare altri temi o comunque porre altri accenti. Un tema ovviamente è emerso quello del determinare e lo si fa ovviamente con la battaglia ma soprattutto anche appunto costruendo l'alternativa. E sono due cose che possono succedere contemporaneamente. Una è appunto una questione di bloccare pratiche devastanti, speculative, quello che tutti conosciamo. L'altro è parallelamente costruire qualcosa anche se vogliamo una rivoluzione gentile. Cioè contemporaneamente c'è una lotta, quindi con uno spirito di un certo tipo, ma deve essere portata avanti anche questa rivoluzione dico gentile perché appunto si basa proprio sui territori e sulla costruzione di comunità. Quindi deve essere qualcosa di propositivo e positivo. Poi adesso magari veniamo anche un po' ai dettagli. Il tema di oggi appunto è il ruolo che effettivamente abbiamo, è quello che sta succedendo a livello normativo, quindi che opportunità si creano. Non ci sono solo situazioni svantaggiose ma ci sono anche delle nuove opportunità. e quindi è un po' capire il ruolo dei cittadini energetici cosiddetti e in particolare poi magari parliamo appunto delle comunità energetiche dell'autoconsumo collettivo. Due slide soltanto per dire cos'è E-Nostra, per capire perché stiamo parlando di questa cosa. E allora E-Nostra è una cooperativa energetica che è nata nel 2014 come esito di un percorso, di un progetto europeo che aveva l'obiettivo appunto di favorire l'accettabilità delle rinnovabili. Proprio perché in tanti contesti si parla per esempio in Puglia, nel Foggiano, si parla di rinnovabili sporche perché sono sporche di impatti, sono intrise di infiltrazioni mafiose, hanno una serie di problematiche per cui anche le rinnovabili a quel punto non è più pulite. E quindi invece quello che si voleva portare avanti è appunto un modello basato sulle fonti rinnovabili ma con tutt'altro spirito rispetto a quello che è appunto la speculazione fatta tradizionalmente. E quindi questo progetto voleva far nascere nei paesi dove questa non era una pratica delle appunto cooperative energetiche ispirandosi ad altri paesi europei dove invece le esperienze hanno maturato decine di anni e centinaia di migliaia di aderenti. E quindi infatti abbiamo interagito con le cooperative importanti europee da Somme Energia che è più recente ma ha una storia molto bella e di crescita rapidissima a cooperative storiche più datate. Già nel 2015 poi è nostra divenuta membro della Federazione Europea delle Cooperative Energetiche che è nata dallo stesso progetto europeo. Quindi si può dire che è un progetto che ha portato dei risultati molto concreti, non sempre capita con i progetti europei. In questo caso in Italia è nata in Ostra, è nata la Federazione, in Portogallo è nata un'altra cooperativa che si chiama Copernico. Quindi dei risultati interessanti. Nel 2016 abbiamo iniziato a fornire elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica. Quindi il percorso è stato lungo arrivare effettivamente a realizzare un po' quello che era l'obiettivo della cooperativa energetica che era quello di vendere elettricità rinnovabile. Aggiungiamo appunto sostenibile ed etica perché appunto non tutte le rinnovabili sono sostenibili ed etiche. Ad esempio noi non scegliamo, non acquistiamo energia da impianti fotovoltaici realizzati sui terreni agricoli, oppure non vogliamo l'energia da impianti eolici realizzati contro la volontà delle comunità locali. E questi per noi sono aspetti importanti. Quindi di fatto quel kilowattora è rinnovabile ma anche delle caratteristiche in più. Poi noi soprattutto dal confronto con le altre esperienze europee ci siamo resi conto che non bastava acquistare e rivendere ai propri soci. Per quanto tu introduca questa energia in una filiera che non ha il lucro come finalità non determini un impatto a livello nazionale il mix energetico. E quindi abbiamo deciso di chiudere il cerchio tra la produzione e il consumo, quindi noi stessi con il capitale dei soci andare a realizzare nuovi impianti rinnovabili e rivendere poi l'energia ai soci. Quindi abbiamo avviato questo processo di fusione con Rete Energie che era una cooperativa fondatrice tra i fondatori di Enostra che aveva già maturato questa esperienza. Quindi abbiamo unito le forze e nel 2018 abbiamo avviato, abbiamo chiuso questa fusione, concluso e avviato la raccolta di capitale proprio per il primo impianto collettivo. La raccolta è andata molto bene, la risposta è stata molto positiva, quel progetto l'abbiamo dovuto purtroppo bloccare perché appunto aveva già alcune delle caratteristiche negative con cui noi non volevamo avere a che fare. Quindi la raccolta si è poi fermata e il capitale ovviamente è stato bloccato per questo obiettivo appunto di realizzare impianti collettivi. Adesso poi la cosa è ripartita ma oggi non è il tema comunque stiamo realizzando altri impianti eolici e fotovoltaici con questo capitale di sovvenzione dei soci. Poi nel 2019 abbiamo avviato anche i percorsi di educazione e formazione anche contro la povertà energetica perché la democratizzazione dell'energia deve aiutare anche a mitigare e risolvere, mitigare il più possibile questo problema e adesso appunto quest'anno stiamo lavorando nuovi progetti e abbiamo avviato delle iniziative che riguardano appunto le comunità energetiche e i progetti di autoconsumo collettivo. Sono un paio d'anni in realtà anche un po' di più che seguiamo la normativa, abbiamo partecipato anche a dei momenti di confronto con i parlamentari europei in fase diciamo di in fase emendativa delle direttive che erano state emanate e quindi insomma è un processo che abbiamo seguito. Adesso si comincia a fare sul serio. Quindi oggi è nostra, questa è l'ultima slide in cui parliamo di è nostra, produce e vende elettricità rinnovabile e sostenibile ed etica. L'etico è legato al fatto che noi valutiamo anche il profilo delle imprese da cui acquistiamo proprio per quelle ragioni che dicevamo prima, per evitare situazioni che appunto non abbiano affinità con quello che è il modello di è nostra, che è quello che è nostra vuole portare avanti. Appunto realizziamo impianti collettivi, attiviamo comunità energetiche, forniamo servizi di efficienza energetica, quindi siccome la transizione esige una riduzione dei consumi oltre che un passaggio dalle fossili rinnovabili, per noi è centrale anche offrire questo tipo di servizio ai soci. Quindi il super bonus è centrale, anzi è un tormentone che ci ha travolti e adesso stiamo sviluppando progetti interessanti di cui poi magari avremo occasione anche di parlare in futuro. E poi appunto la formazione, la cultura, la sensibilizzazione, le campagne proprio per favorire la maggiore consapevolezza e combattere contro la povertà energetica. Non so se avete mai visto questa immagine, a qualcuno sì perché magari in qualche altra presentazione l'ho utilizzata. È una scultura che è a Berlino di questo artista spagnolo e che è tra l'altro una miniatura, quindi non è grande, ma è appunto molto piccola e rappresenta dei politici appunto che stanno discutendo di cambiamento climatico e che fa vedere già la situazione in cui si trovano. Io ricordo anni fa quando l'ho vista mi sembrava una situazione paradossale, una chicca, una nota di colore. E poi in realtà è successo ed è successo proprio in Veneto, a Venezia. Il Consiglio regionale stava discutendo di novembre 2019, stava discutendo di provvedimenti appunto per favorire la diffusione delle rinnovabili e la lotta contro il cambiamento climatico. Avevano bocciato questi provvedimenti e poco dopo, lo vedete dai fogli, evidentemente sono usciti di corsa. Era successo quello che non era mai successo prima. L'acqua ha invaso Palazzo Ferrofini. Adesso stiamo vedendo situazioni estreme. Questa è di ieri, San Francisco, gli incendi. Questo è il cielo della mattina, sembrerebbe un tramonto, una cosa un po' appunto, lo paragono a una Blade Runner. In realtà è il cielo delle 10 della mattina a causa degli incendi che hanno divampato nelle vicinanze di San Francisco. 20.000 persone sono state evacuate. Quindi vuole dire, è un tema che non è la desertificazione in Africa, non è qualcosa di lontano, ma è una cosa che sta condizionando la vita di tutti noi. Il mondo occidentale è investito pesantemente. Ma cos'è che sta cambiando appunto a livello climatico? Sta cambiando la frequenza di questi eventi estremi e sta cambiando anche l'entità di questi eventi. Ci sono appunto degli studi che dimostrano quanto questa incidenza si è aumentata e che dicono che appunto il ruolo dell'uomo nell'incremento di questa frequenza, di questa incidenza è molto importante. Lo è nell'88% delle ondate di calore, lo è nel 54% dei casi di siccità, nelle piogge, nelle luvioni. Quindi di fatto c'è il nostro contributo pesante e quindi dobbiamo, come abbiamo combinato il guaio, dobbiamo assolutamente intervenire con sollecitudine per mitigare questo problema. E sappiamo che il tema delle emissioni, è stato detto anche prima, è pesantemente determinato da come si produce e come si consuma l'energia. L'80% delle emissioni di gas ed effetto serra derivano proprio dall'energia. E per un chilowattora rinnovabile, se io scelgo di produrre, se scelgo di consumare energia rinnovabile, do il mio contributo riducendo di 48 kg di CO2. Per ogni chilowattora è di 3,68 mg di polveri sottili. È molto importante concentrarsi anche sul tema delle polveri sottili, perché di fatto scegliere rinnovabili significa evitare inquinamento oltre che emissioni. E deve essere centrale nelle considerazioni e questa è una cosa che uno può fare dall'oggi al domani. Non c'è bisogno di investimenti, non c'è bisogno di fare nulla. Scegliere energia rinnovabile significa spostare il mercato, spostare la produzione, perché la produzione deve tenere il passo ovviamente con la domanda. Quindi noi abbiamo sempre questo potere che dobbiamo esercitare anche in queste situazioni banali. A livello europeo cosa sta succedendo rispetto appunto a questa democratizzazione dell'energia? È stato fatto uno studio nel 2016 che diceva che poste delle condizioni normative, quindi un contesto favorevole, al 2050 264 milioni di cittadini europei saranno cittadini energetici, vuol dire un cittadino ogni due. Quindi non stiamo parlando di un'esperienza di nicchia che può riguardare solo dei movimenti sensibili, stiamo parlando di qualcosa che riguarda o il marito o la moglie per dire siamo in due, almeno uno dei due partecipe di questa cosa. Quindi è una cosa che ci riguarda tutti fondamentalmente. Questi cittadini energetici, sempre in questo studio si diceva che possono produrre il 45% della domanda elettrica europea. Quindi di nuovo non è un'esperienza di nicchia, è una rivoluzione totale. Chi sono i cittadini energetici? Sono le piccole e medie imprese che installano fotovoltaico sul tetto di casa, sono le famiglie, vi vediamo il 23%, sono le famiglie che installano il fotovoltaico sul tetto di casa, in piccola percentuale gli enti pubblici, per una mancanza di cultura e anche per una questione di superfici minori a disposizione, però c'è da lavorare, e sono appunto le cooperative energetiche che aggregano questi cittadini che producono e vendono energia rinnovabile. Quindi abbiamo queste quattro categorie e nostra è ovviamente in quella in basso a destra perché appunto è una cooperativa energetica. Quello era al 2050, questo invece è quello che già succede oggi in Germania. Adesso vedete un grafico che mostra dal più grande al più piccolo, diciamo la prima selezione, i produttori di energia a livello europeo. Al primo posto vedete che c'è EDF che produce energia prevalentemente da nucleare, al quarto vedete Enel, quindi guardando quelli che interessano un po' più da vicino a noi, all'undicesimo c'è Edison e al quattordicesimo posto a livello su scala europea ci sono i cittadini energetici della Germania, oggi, quindi non al 2050. Quindi già oggi se noi potessimo aggregare e considerare come unico fornitore i cittadini che in Germania producono e consumano energia rinnovabile, saremmo nella classifica dei colossi energetici. Siamo perché stiamo parlando del presente. Quindi loro hanno iniziato molti anni prima con politiche evidentemente diverse e sono arrivati già oggi a questo risultato. Si tratta di cogliere le iniziative e le opportunità che si stanno concretizzando per andare in questa direzione il più rapidamente possibile. E lì appunto, questo è estratto dall'Energy Atlas, sempre del 2018 mi pare, dice che grazie a strategie e leggi lungimiranti la transizione potrà essere guidata dalle città, dai cittadini, dalle comunità energetiche, lasciando molta più ricchezza nei territori, nelle comunità locali. Questo è un tema molto importante. Un altro studio dimostrato, sempre fatto in Germania perché ovviamente lo si fa dove ci sono molte esperienze da studiare, ha dimostrato che se i capitali per la realizzazione di impianti rinnovabili vengono dai territori, restano nei territori otto volte più ricchezze. Perché prima si parlava di estrazione. Quando io realizzo un parco eolico con capitali esteri, con professionisti in manovalanza estera, pagando una pipata di tabacco, il proprietario del terreno e diciamo violando i diritti e le ricadute che effettivamente dovrebbe determinare un impatto del genere, sto estraendo valore dal territorio e sto creando una situazione che appunto non è sostenibile. Se invece vengono coinvolti i cittadini, la situazione cambia radicalmente anche in termini di ricchezza e ovviamente anche in termini di occupazione. Quindi questa transizione energetica come deve essere e perché? Per fare un po' di sintesi. Deve essere democratica, accessibile, equa e solidale, anche a livello europeo è ben indicato dalla Commissione. Nessuno deve rimanere indietro, quindi questo processo deve essere fatto tutelando i diritti ovviamente delle categorie più deboli e creando delle opportunità per i protagonisti veri della transizione, di questo modello. Deve essere promossa dal basso e deve essere centrata appunto sui territori. In questo senso i comitati possono avere un ruolo molto importante perché aggregano già delle persone sensibili e in una comunità energetica, poi lo vediamo, non serve essere contigui, non importa che siamo tutti confinanti, non c'è una comunità virtuale, quindi non deve esserci continuità dei cavi. Se quindi delle persone che risiedono in territorio hanno la sensibilità, intanto iniziano loro, poi gli altri si aggregeranno, si ispireranno e si baseranno sull'esperienza maturata. Quindi già se i comitati iniziassero a sensibilizzare la propria comunità coinvolgendo gli enti locali, perché è un ruolo, adesso anche questo lo enfatizzo poi, hanno un ruolo centrale, la comunità è fatta di tanti stakeholder, devono tutti lavorare in maniera propositiva e collaborative insieme, anche perché gli impatti vanno al di là di quello che uno può immaginare. L'energia diventa un pretesto, si può fare molto di più su tematiche trasversali e molto incentrate anche sugli aspetti sociali. E appunto deve rispondere ai bisogni e agli interessi delle comunità locali. Quindi anche qui, ovviamente se diventa un business interessante, i soggetti con capitali possono interessarsi e proporre delle iniziative ai territori, ma io lo sto già vedendo e quando vedi scritto comunità energetica e le leggi le caratteristiche del progetto, ti avrebbe voglia di cancellare quel tema, quel termine, perché è un'altra cosa, quando non parte dal basso, cioè può partire dall'esterno tipo e nostra sa dare delle indicazioni, ma poi le radici, l'identità di quel modello e le caratteristiche di quella specifica esperienza devono venire dal territorio, non possono venire da lontano, da chi non conosce le peculiarità, le esigenze. E questo è importante focalizzarsi perché bisogna evitarle quelle situazioni che possono di nuovo essere speculative e lasciare a chi ha più diritto, sempre anche stando alla normativa, lasciare le briciole, perché il rischio è quello. Comunque adesso poi ci arriviamo. Deve essere fatta in modo da favorire la produzione diffusa, la condivisione, l'autoconsumo istantaneo, perché appunto i cittadini energetici sono il cuore di questo nuovo modello, lo sono perché producono l'energia e perché l'autoconsumano localmente, quindi sono i produttori e i beneficiari e devono essere anche appunto come impatti. Di fatto politicamente è una bomba, nel senso che noi passiamo da un modello centralizzato a spostare il potere, in inglese rende bene perché è il collective power, power è anche energia in inglese, per cui lo sintetizza in una sola parola ed è molto efficace. Si sposta, si decentra quel potere senza una battaglia, cogliendo un'opportunità e andando a contribuire agli obiettivi che abbiamo a livello europeo. Quindi di fatto politicamente è una cosa... infatti io temo che quando verrà colto così in maniera chiara questo potenziale potrebbero esserci poi degli ulteriori elementi che invece vadano a ostacolarlo, perché di fatto depotenzia in maniera clamorosa le lobby, perché sposta gli equilibri e anche gli investimenti sulla rete, tutto quanto lo sposta a livello più locale. Deve concorrere ovviamente a incrementare la quota, lo dicevamo prima, di fonti rinnovabili nel mix energetico, perché l'abbiamo detto, la produzione e il consumo di energia incide pesantemente sul cambiamento climatico. Veniamo alle opportunità appunto che vengono determinate dall'evoluzione della normativa. È stata pubblicata nel 2018 questa nuova direttiva rinnovabili che ha posto come target di energia rinnovabile al 2030 un obiettivo del 32%, che può essere solo modificabile al rialzo e che è un obiettivo diciamo obbligatorio. Ha introdotto appunto questa espressione delle comunità energetiche, identificandole come aggregazioni di cittadini, di comuni, di piccole e medie imprese sul territorio, in qualsiasi forma, purché non siano animate dal profitto come prima finalità, che vuol dire tantissimo. Quindi una società tradizionale non può mettere in piedi questo progetto, perché ovviamente l'obiettivo principale è di carattere economico. E vengono riconosciuti ai cittadini il diritto di autoprodurre, autoconsumare, accumulare e vendere l'energia rinnovabile. Viene inoltre riconosciuta appunto la possibilità di scambiare l'energia all'interno di una REC in inglese, sarebbe CER in italiano, la comunità energetica rinnovabile, e viene appunto riconosciuta la possibilità di scambiare l'energia prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità. Quindi una comunità energetica rinnovabile che cos'è? È un soggetto giuridico, abbiamo detto con le caratteristiche, deve essere basato sulla partecipazione aperta e volontaria, deve essere effettivamente controllato dagli azionisti o i membri situati nelle vicinanze degli impianti rinnovabili detenuti dalla comunità. Quindi ha un carattere locale e deve essere, come dire, nello statuto e nelle caratteristiche del progetto deve essere garantito a questa caratteristica, ed è un modo anche per evitare appunto speculazioni o soggetti che invece non abbiano queste relazioni col territorio. Gli azionisti o i membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti e autorità locali, ovviamente inclusi i comuni, a condizione che per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale. È nostra, non può partecipare a una comunità energetica, ed è giusto secondo me. È nostra può attivare, è nostra lo sta facendo, attivare e quindi mettere al servizio delle competenze e dare delle consulenze, ma la comunità energetica deve escludere i soggetti interessati, diciamo, dalla filiera energetica. L'obiettivo delle comunità energetiche è fornire appunto, deve essere fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli azionisti o ai membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che appunto i profitti finanziari. Sono imprese di comunità, quindi i vantaggi vanno per chi aderisce ma anche per tutti gli altri, perché se nel territorio aumenta la produzione di energie rinnovabili e il consumo istantaneo, quindi contestuale alla produzione, di fatto sto determinando impatti anche per tutti gli altri che non aderiscono. Noi qui stiamo facendo due esperienze pilota. Adesso non è ancora completato l'iter normativo che ci mette nelle condizioni di realizzare questi progetti. Ad esempio gli incentivi che saranno erogati per l'energia prodotta e autoconsumata dalla comunità, quindi condivisa, non sono ancora stati pubblicati, saranno pubblicati, così è previsto, la settimana prossima. E poi il GSE dovrà realizzare un portale espressamente per gestire questi progetti, devono essere ancora configurati i flussi delle informazioni sull'energia autoconsumata, ma ce n'è ancora di strada da fare. Quindi non possiamo parlare di chi dice che ha fatto una comunità energetica, nel senso di riferendosi alla locuzione introdotta dalla comunità europea, di fatto dice una cosa non reale. Ad oggi abbiamo avviato delle esperienze pilota, ma ancora non possiamo completarle perché mancano tutta una serie di indicazioni. Ma ovviamente noi andiamo avanti di pari passo all'evoluzione della normativa. Questo pilota lo stiamo facendo a Padova, in un social housing che si chiama Qui Abito. Il proprietario degli immobili è un fondo, Etica SGR, poi gestito da Veneto Casa. Abbiamo chiesto al fondo, abbiamo individuato questo progetto proprio perché è un social housing, come una situazione favorevole proprio all'avvio di queste iniziative, proprio per la natura sociale che hanno. Il fondo ha deciso di aderire a questo progetto che noi abbiamo poi candidato ad un bando che è stato lanciato da RSE, un bando di ricerca, quindi non davano risorse, ma volevano studiare queste prime esperienze perché ora siamo in questa fase transitoria dell'evoluzione della normativa in vista del recepimento della direttiva che dovrà avvenire entro settembre dell'anno prossimo. Quindi tutto quello che succede in questo periodo è molto prezioso perché sarà utile per andare a caratterizzare la normativa definitiva. Quindi è urgente che questi progetti procedano proprio per raccogliere esperienze e evitare errori, evitare ostacoli e indirizzare il recepimento della direttiva in modo che sia effettivamente attuabile, efficace e replicabile facilmente. Abbiamo coinvolto ovviamente il gestore sociale che è la cooperativa Città Solare, è nostra, è il promotore di questa iniziativa e il partner tecnico e sinergia che è una cooperativa anche sinergia, è una ESCO che si occupa appunto di efficienza energetica di questi progetti. Il social housing è costituito da quattro immobili, complessivamente appunto ci sono 84 alloggi, otto di questi sono destinati a nuclei indicati dai servizi sociali, poi ci sono in questa struttura un poliambulatorio, uno spazio per le associazioni, un centro di urno per anziani, una sala comune e poi ci sono una serie di servizi integrativi, c'è un co-working, c'è un alloggio, diciamo, una specie di albergo, un ristorante, un co-working, tutta una serie di spazi e proprio una comunità. Noi siamo stati anche questa settimana perché abbiamo somministrato il questionario prodotto da RSE, quindi abbiamo incontrato i cittadini, i social housing, e devo dire che c'è una gran risposta e c'è una gran voglia di contribuire a questa iniziativa. Noi continuiamo a dire che non sappiamo, non essendo ancora noti gli incentivi, non possiamo dare delle certezze, delle indicazioni precise sul risparmio che si determina, però sappiamo tutti che stiamo partecipando a un cambiamento e che quello che noi mettiamo in pratica è molto prezioso, quindi sono tutti molto partecipi. Hanno aderito al progetto una sessantina dei residenti quando l'abbiamo proposto a gennaio, quindi una gran risposta rispetto al totale. Poi adesso si stanno aggiungendo. Scusate, ho sbagliato friccia. In questi immobili hanno già dei pannelli fotovoltaici, ma come vedete c'è spazio per aggiungere degli altri, sono solo elettrificati, quindi la produzione di energia fotovoltaica è molto preziosa. Abbiamo già in mente di estendere questi impianti, quindi di proporre un'estensione, di installare il sistema di accumulo e vedremo poi ovviamente tutto, le prospettive la sviluppiamo cammin facendo con vari soggetti coinvolti e anche una colonnina di ricarica per andare appunto a vedere effettivamente quanto riusciamo a determinare come energia autoconsumata contestualmente alla produzione per gli usi comuni e per i cittadini. Un progetto di autoconsumo collettivo cosa introduce di nuovo rispetto al passato? Fino ad oggi, o diciamo fino a ieri, si poteva realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio per l'utilizzo o delle scale, quindi l'ascensore, le utenze condominali, o per un singolo che utilizzava la sua porzione di tetto a disposizione per il suo utilizzo. Con questa nuova normativa l'impianto sarà comunque allacciato alle utenze condominali, ma l'energia prodotta dall'impianto sarà virtualmente condivisa dagli utenti anche per l'utilizzo a casa propria. Quindi è come dire, si è allargato, dico virtualmente perché il pod allacciato è uno, ma di fatto quell'energia sarà considerata come autoconsumata anche dagli altri se andranno a consumare contestualmente la produzione. E quindi lì c'è un percorso da fare di sensibilizzazione di chi vive, sia le imprese che i social housing, quelli immobili, perché devono spostare i propri consumi e quindi abituarsi a utilizzare l'energia proprio nel momento in cui viene prodotta. Un altro progetto pilota che stiamo facendo invece è una comunità energetica a Biccari, in provincia di Foggia. È un comune, un borgo molto bello, di 2700 abitanti, quindi un borgo molto piccolo, che vive un grave problema di spopolamento e di mancanza di servizi come tutte le aree interne, come tutte quelle situazioni. Volevamo proprio capire che tipo di impatti si possono determinare in un contesto di questo tipo. L'amministrazione è molto sensibile, molto innovativa. Un sindaco, Gianfilippo Mignogna, è una persona speciale che è proiettata a veramente costruire giorno dopo giorno la rivoluzione a livello locale e riesce a portare avanti in tempi molto rapidi progetti anche molto ambiziosi. Ha fatto anche la valuta locale, quasi dall'oggi al domani, e ha messo in circolo delle iniziative che appunto stanno determinando impatti positivi per il territorio. Lì sono state mappate sei cabine di trasformazione dalla bassa alla media tensione che in questo momento, in base alla normativa attuale, è uno dei limiti. Nel senso che le comunità energetiche devono, la produzione e il consumo, devono avvenire entro questo confine della cabina di trasformazione tra bassa e media. In questo comune, ad esempio, di così poche anime, ci sono sei cabine. Quindi teoricamente dovrebbero nascere sei comunità energetiche, addirittura con sei soggetti giuridici. Questo è un tema ovviamente, è un fattore limitante, è una cosa che deve essere superata. Quanto meno il fatto che il soggetto giuridico che le realizza deve essere unico. Quindi fare più progetti che però vengono condotti da un unico soggetto. In questo caso appunto i protagonisti, come dicevo, sono i protagonisti del territorio, il comune, le famiglie, le imprese e la cooperativa di comunità. L'idea in questo caso è proprio di coinvolgere come figura, come soggetto giuridico, la cooperativa di comunità che già esiste e che fa un sacco di iniziative a vantaggio dei residenti, di carattere in tema di turismo, in tema di gastronomia, in tema di prodotti locali, di filiere corte e l'energia si va ad aggiungere a questo percorso. In questo caso stiamo appunto facendo lo studio di fattibilità per alimentare un quartiere di case popolari e quindi di andare ad impattare sulla bolletta di chi appunto è più in difficoltà. Come si realizza un percorso di questo tipo che può essere comunità energetica e autoconsumo collettivo? Ovviamente parte dal basso, quindi noi veniamo normalmente coinvolti dalle amministrazioni locali oppure appunto da soggetti sensibili come può essere un comitato o un movimento locale. Si fa uno studio di prefattibilità, si vede quali sono le superfici che possono essere utilizzate per produrre l'energia e quali possono essere le utenze coinvolte. Si definisce il modello, ovvero come si vuole spostare l'impatto anche economico di questa iniziativa. Cioè ci sarà un produttore che possono essere i cittadini che contribuiscono alla realizzazione dell'impianto oppure può essere un soggetto terzo che produce. I benefici, quindi l'incentivo determinato da questa energia che viene autoconsumata chi ne beneficia viene deciso proprio dalla comunità stessa. Ci possono essere soggetti dove appunto il produttore vorrebbe portarsi magari tutti i benefici altre situazioni in cui invece posso, la comunità insiste per poter garantire agli utenti finali maggior beneficio. Tutto questo dipende proprio dalle dinamiche che si instaurano tra i soggetti che partecipano. Poi si lancia una campagna ovviamente di sensibilizzazione e di coinvolgimento. Si realizza un impianto fotovoltaico, ovviamente l'auspicio è che si venga fatto da installatori, da professionisti del territorio, quindi non da qualcuno che viene da fuori e poi si attiva la comunità energetica, si ripartisce l'energia tra chi partecipa e appunto i benefici. Tutto questo che vedete nessuno l'ha fatto intero, è un percorso che stiamo seguendo proprio perché abbiamo bisogno di vedere che forma prenderanno i provvedimenti e tutto l'iter burocratico. Gli obiettivi di queste iniziative sono tecnici, quindi di analisi della produzione e consumo, della modellizzazione dei prelievi e la massimizzazione dell'autoconsumo, ma sono soprattutto sociali e ambientali, cioè favorire, l'obiettivo è favorire la transizione e l'autoconsumo istantaneo a livello locale, ridurre la bolletta e mitigare la povertà energetica, migliorare la consapevolezza sull'uso dell'energia come dicevamo prima, attribuire centralità ai cittadini energetici e agli enti locali, innescare azioni collettive, come dicevo prima, non solo in tema di energia ma in tema di beni comuni e di tutto quello che può essere di interesse della comunità coinvolta per rivitalizzare la comunità e favorire l'inclusione. Lo stiamo vedendo anche nelle iniziative che stiamo facendo, è un pretesto per favorire l'interazione e l'inclusione anche di varie categorie di soggetti e costruire relazioni mutualistiche a vantaggio reciproco tra tutti gli stakeholder, quindi devono essere iniziative che danno benefici a tutti ed è per quello che dico vanno fatte con rivoluzione gentile e con il sorriso, perché non è una lotta tra interessi ma deve essere coltivata l'interesse di tutti i soggetti coinvolti, perché si può fare, non è utopistico pensarlo e ovviamente ridurre gli impatti ambientali del modello energetico. Due slide solo per dire gli effetti che la pandemia sta determinando sulla transizione. Qua mi concentro sugli aspetti positivi di questa situazione più che altro. Questa situazione, il lockdown, quello che abbiamo vissuto, ha portato un po' a riscoprire l'autoproduzione e quanto sono preziose e importanti le filiere corte. Questa dell'energia è un'altra filiera corta che si va ad aggiungere a questo nuovo modello. Ha favorito lo sviluppo di nuove dinamiche, di comunità di condivisione laddove magari non c'erano, perché c'erano situazioni dove appunto magari tra di l'impettai non ci si conosce e quindi ha favorito questo sviluppo di nuove dinamiche. Ha innescato nuovi rapporti con la dimensione territoriale. Io stessa che sono sempre su EG per Milano e che mi fermavo poco, io sono di Albignasego in provincia di Padova, mi fermavo poco sul territorio e avevo veramente poche relazioni, cominci invece a instaurarne forzatamente ma poi ne apprezzi anche i benefici. Il propagarsi di iniziative di solidarietà, abbiamo visto tantissime iniziative molto belle di solidarietà e queste possono essere riportate anche in progetti di comunità energetiche. Abbiamo esplorato e stiamo esplorando ancora oggi, esploreremo ancora di più in avanti, nuovi modelli, modelli alternativi, per tanti aspetti, per tante questioni. Tanti modelli che avevamo per scontati non lo sono. Vediamo ad esempio la questione del lavoro. Adesso un sacco di persone che provenivano dal sud, ad esempio, stanno pensando di ritornare al sud, di lavorare a distanza e quindi di andare a mitigare quel problema che c'è nei paesi natali e riuscire a fare entrambe le cose, vivere, lavorare per una città, magari che abbia dei modelli innovativi dal punto di vista sociale, ma mantenere le proprie radici e il rapporto con i territori. E poi la pandemia, questa situazione, ha generato anche nuove opportunità, come ad esempio il super bonus, non sarebbe mai successo quello che sta succedendo e quello che si potrà determinare come impatti se non ci fosse stata questa situazione, non sarebbe mai stato pensato un'agevolazione del 110%. E poi come deve essere questa transizione appunto come rimedio alla crisi? è un modello che appunto favorisce l'aggregazione e la lotta alla povertà energetica e che aiuta in questa situazione di difficoltà, è appunto un'opportunità di costruire filiere corte di produzione e autoconsumo, di rivitalizzare e valorizzare l'economia territoriale, ogni soggetto, ogni comunità energetica è un soggetto giuridico, quindi di fatto sto creando impresa e sto creando occupazione perché i gestori dell'energia saranno poi magari delle figure, potrebbero essere un esponente del comitato, che viene coinvolto come gestore dell'energia, quindi di fatto sto creando un piccolo, un'occupazione, un posto di lavoro o un pezzetto di posto di lavoro in più. E appunto posso determinare occupazione, si sposta e si rende centrale appunto il ruolo dei cittadini e degli enti locali e si determinano impatti economici, ambientali e sociali misurabili, che è poi l'obiettivo iniziale di questo nuovo modello.